Se un terzo della stagione invernale con le festività legate al Natale e all'Epifania ormai è andato, cresce al contempo l'attesa con l'avvicinarsi dalla fine di gennaio per le settimane bianche, momento apice per il turismo legato alla neve. A Nefa Veneto, l'associazione delle aziende funiviari, traccia dunque i primi bilanci, guardando naturalmente già ai nuovi obiettivi all'orizzonte. Siamo molto contenti perché comunque abbiamo aumentato del 10% le vendite, di un 7% i passaggi sui nostri impianti e quindi siamo tornati ai livelli pre-pandemia. Numeri incoraggianti dunque per l'industria turistica della montagna. Attorno agli impianti di risalita ruotano infatti alberghi, seconde case, ristoranti, rifugi e molto altro. Una stagione che ha visto ritornare anche gli stranieri, ospiti particolarmente attesi per le prossime settimane bianche. Abbiamo delle ottime prospettive, sentiamo che ci sono diverse prenotazioni. Impiantisti chiamati a far fronte, oltre che con il nodo rincaro e inflazione, inoltre con le bizzerie del meteo, in primis le alte temperature anomale del periodo. Adesso comunque la perturbazione di questa settimana dovrebbe sistemare le cose, dovrebbe tornare il freddo. Noi comunque eravamo attrezzati con i nostri impianti, siamo tecnologicamente abbastanza avanzati e come tutti possono vedere le piste sono a posto e perfettamente nevate. L'industria della neve guarda ora il proseguo della stagione, pronta ad assicurare ancora una volta a grandi e piccini le emozioni uniche che la montagna sa regalare. C'è tanta voglia di sci, tanta voglia di montagna, di libertà e essere sulle nostre dolomiti è sicuramente un paesaggio inimitabile.